La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza di Napoli, nell'ambito di attività di iniziativa congiunta nel settore antidroga, hanno tratto in arresto tra Giuliano Incampania e Marano cinque soggetti indiziati a vario titolo di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e armi. Sequestrate dal complesso alla squadra mobile dal GICO di Napoli 150 chili di cocaina, 46 chili di hashish, 9 pistole con relativo munizionamento, strumenti per il confezionamento della sostanza stupefacente e oltre 650 mila euro in contanti. Più in dettaglio, due degli arrestati sono stati sorpresi nel box auto dell'abitazione di un terzo complice mentre caricavano, all'interno di scomparti ricavati nel vano e la ruota escorta ai due autovetture, 100 panetti di cocaina per un peso complessivo di circa 105 chili. La perquisizione effettuata presso l'abitazione di un quarto sodale ha poi portato alla luce, celata sotto il pavimento del suo garage, una botola d'apertura comandata da un sistema idraulico, all'interno della quale sono stati scoperti e sequestrati altri 47 panetti di cocaina, per un peso complessivo di circa 43 chili. La contestuale perquisizione all'immobile di un quinto componente dell'organizzazione ha portato al rinvenimento dei 46 chili di hashish, di 2 chili di cocaina, 6 pistole semiautomatiche e relativo a munizionamento, 3 revolver con matricola brasa, 12 caricatori, 543 munizioni per arma curta, numerosi stampi per la posizione di marchi sulle confezioni di stupefacenti, una pressa ed altri strumenti per il confezionamento della droga. Anche in questo caso il materiale è stato trovato all'interno di un vano ricavato in una botola nascosta sotto il pavimento del box auto e accessibile tramite un sistema ad apertura controllata di tipo idraulico. Durante le perquisizioni all'interno dell'autovettura di un sesto soggetto è stato rinvenuto un analogo doppio fondo che, insieme ad altri indizi, ne ha determinato la denuncia penale per le stesse ipotesi di reato. Infine anche la perquisizione dell'abitazione di un settimo componente, effettuata con l'ausilio dei vigili del fuoco di Napoli, ha portato alla luce un sistema scomparsa, cerato sotto il pavimento del piano interrato, che dava accesso ad una botola all'interno della quale sono stati rinvenuti e sequestrati 62 involucri in cellofan, contenenti banconote e i variotaglio, per una somma totale di 650.690 euro. Oltre a due macchine conta banconote.